Quello che vedete qua non è cellulite, chiunque se fa così ha un aspetto non omogeneo, perché il grasso... Quello che si dice a buccia d'arancia. Sì, allora, un conto se uno ce l'ha a riposo, un conto se andiamo a sollecitarlo, come in questa foto in cui uno lo pinza. Il grasso non è una crema come la Nutella, è fatto a palline come il polistirolo, per cui se effettivamente andate a maltrattare la pelle, e sotto vedete questa struttura lobulare che è caratteristica del grasso. Allora, ci si può liberare della cellulite anche grazie alla liposuzione oppure no? Sostanzialmente no. La liposuzione modella le forme, modella il grasso che voi portate dal chirurgo. Io per scherzo dico che uno modella appunto quello che uno porta dal chirurgo. Se vi portate la fontina verrete tutta bella liscia, se vi portate la gruviera qualche buchino continuerà a vedersi, perché la qualità non è cambiata.